La musica del periodo romantico che va da circa il 1800 al 1850 è considerata da molti amanti della musica classica l'apice della realizzazione artistica ed espressiva fra tutta la storia della musica. Nomi come quelli di Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann, Mendelssohn, Rossini e Liszt si ergono come modelli della migliore forma d'arte. Allo stesso modo molti artisti odierni di alto livello dedicano una grossa fetta di loro studi e delle loro produzioni a questo repertorio. Le loro carriere si basano sulla musica romantica. Vi voglio invitare a esplorare e a scoprire i numerosi compositori e le relative opere che esaltano l'epoca romantica. E non trascurate gli eccezionali artisti moderni che oggi rapportano con successo alle nostre orecchie. In un'occasione Robert Schumann dichiarò Per me la musica è sempre il linguaggio che permette di dialogare con l'aldilà. Il termine romanticismo fu applicato per la prima volta alle tendenze della letteratura alla fine del XVIII secolo come una rinascita idealizzata del romanticismo medievale e presto si diffuse fra le sue arti sorelle, la pittura e la musica. In ciascun campo artistico il termine è un'affermazione del potere delle emozioni umane, specialmente nell'espressione vitale delle verità più intime dell'artista, cosa che non successe con le tradizioni vincolate alle regole dell'epoca precedente. Nella storia della musica il termine fa riferimento generalmente al periodo fra la maturità di Beethoven e l'ascesa delle tendenze moderniste dei primi anni del XX secolo. Allo stesso tempo è diventato comune tracciare una divisione fra le epoche romantiche antiche e quelle tardo o post romantiche. Le principali tendenze musicali del XIX secolo non derivano tanto dall'introduzione di nuove tecniche o di nuovi generi musicali, ma piuttosto da una maggiore accentuazione di quegli elementi che si trovano già nella musica del XVIII secolo, guidata dagli ideali romantici di espressione soggettiva e unità organica. Ad esempio, le armonie cromatiche sofisticate che si trovano negli ultimi quartetti d'archi di Beethoven, Franz Schubert e Felix Mendelssohn derivano direttamente dagli sviluppi armonici di Mozart e Haydn, sebbene siano accentuate in misura superiore a ciò che sarebbe potuto accadere senza il noto impeto estetico. Tendenze simili possono essere viste nel nuovo approccio, a volte esotico, all'orchestrazione ascoltato nelle opere sinfoniche di Hector Berlioz e Karl Maria von Feber, con l'evoluzione naturale spinta da imperativi filosofici. Anche le tendenze sociali e culturali hanno avuto il loro impatto sulla pratica musicale nella prima metà del XIX secolo. In particolare, il raggiungimento della maggiore età della classe media e il relativo declino della nobiltà. I compositori ora dovevano rispondere in maniera maggiore e diretta alle richieste del pubblico, e meno ai capricci di un ricco mecenate. Fra le conseguenze notevoli di quest'ultima tendenza c'è stata la nascita del salotto musicale privato e delle grandi opere musicali scritte per esso. le miniature pianistiche di Frédéric Chopin e Robert Schumann, le canzoni o lead di Schubert e Schumann, eccetera. Un'altra conseguenza fu un nuovo fascino per il virtuoso solista, con il pubblico abbagliato dalla prudezza tecnica delle opere di Niccolò Paganini e Franz Liszt. Forse da nessuna parte la combinazione dell'impulso romantico e delle forze di mercato era più palpabile che nell'opera del diciannovesimo secolo, dove compositori come Weber, Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizzetti inaugurarono una nuova era dell'opera sia artisticamente che popolarmente. Nel 1850 l'estetica romantica era pienamente maturata e i compositori cercarono modi sempre più potenti per infondere le loro opere con emozione e unità, producendo una nuova era, il cosiddetto periodo tardo romantico.